Allora, la cosa abbastanza buffa è già... è già il quarto match che... è già quella quarta partita che inizia quel primo. Ah, beh, ma questo è un keep. Interessante. Valutiamo un attimo se fare turno 1 Secret Cat o... turno 2 Drop A2. Non sapendo cosa gioca l'avversario, la cosa probabilmente più corretta è fare un Secret Cat al turno 1, un Secret Cat al turno 2, e poi un Drop A2 di turno 3. Palude. Quindi abbiamo tre possibilità. Ah! Faremo Drop A2 di turno 2. A me quattro falchetti... tre falchetti. E via. Non mi azzardo a fare il Seeker, perché non so effettivamente se l'avversario sta giocando... ma uno nero... o se sta giocando B-Alchemy. Potrebbe anche star giocando Pestilence. O addirittura B-G Midrange. O sta giocando Alchemy o sta giocando Pestilence. Pestilence? No, in realtà potrebbe star giocando anche Ors of Midrange. Mazzo che non esiste fondamentalmente, ogni tanto lo vediamo. Però... Non avendo in mano Drop A4 da fare, a questo punto andiamo di ciclo... Montagna... Gioco Montagna... E facciamo subito il Seeker... Se non si mangerà una rimozione... Comunque avremo la possibilità di fare Firebolt il prossimo turno. Sicuramente è bianco o nero. Adesso arriverà una Skyfisher. Castigate. Loil, veramente mi ha tolto Firebolt. Vaffanculo. Potrei svuotarmi la mano, però sapendo che è un mazzo con... Un alto numero di Mass Remawal, preferisco fare soltanto il micetto. Il prossimo turno tiriamo questo Battle Screech, vediamo se fare il Flashback o nero. Adesso farà... Rager. Non penso che sia il caso di fare subito Flashback, perché... Possiamo tenerlo per il prossimo turno. Ed eventuali... Mass Remawal. Avremmo potuto decidere di giocare Montagna... Così da poter picchiare anche quei gatti... E poi fare in Balm... Del gatto ci ha bloccato. Maledetto bastardo, i Disfigure. Ah, non ha Disfigure. No, per lui ha senso bloccare solo se ha Disfigure. Se non ce l'ha, non ha senso bloccare. No, per carità, è vero che... Che non prende danni. Però bisogna appunto vedere se ha Mass Remawal o meno in mano. Se fa... Palude... Pestilence... Vratto per uno... Noi abbiamo smesso di giocare, praticamente. Invece... Siamo ancora vivi. Non c'è ombra di rimozione. Vediamo se questo Seeker sopravvive. Bisogna un po' vedere cosa ha l'avversario in mano. Sana, guardia del patto delle Gilde. Il nostro gameplay in con Seeker finisce qua. E dobbiamo sperare di pescare... Qualsiasi... Eccola. Speriamo di pescare una Stran... No, la Stranza non ci salva nemmeno. Boros Gerison non è per nulla quello che mi può servire. E... Pago... Pago... No. Stavo per tappare... Il Seeker per il Flashback. Giusto per dargli il Flashback immoliamo un paio di pedine. Picchiamo... Picchiamo... Come possiamo... Intanto lui parerà perché... Dopo gli morirà il Phyrexian Rager. Intanto ci riprendiamo una pianura. E passiamo. Se siamo fortunati non ha creatura con costituzione tra o più. Intanto lui vratta sicuramente per uno. E ci lascia un Seeker. E fin là... Non ci piove. E... A questo punto vratterà per un altro danno. Un altro sugosissimo danno. Ma vaffanculo. Ogni volta che mi ammazzano i gatti hanno le Boyuka Vogue. E? Basta. Non ha creatura in mano. Ma vaffanculo. T'ho beccato i due danni. Adesso non penso che abbia senso giocare le Bestie. Ho giocato terra semplicemente per riuscire ad arrivare ad avere 6 mana. Nel caso dovessimo arrivare a un punto in cui... Bossa... Necessitare di... Ufff... GG. Cioè siamo arrivati a un punto in cui sto stronzo... Se è potuto... Se... Ho potuto giocare la Palaz Sentinel. Ma è talmente handicappato che avrebbe potuto spaccare prima la Bestie... Vrattare per Pestilence. A meno che... Ovviamente può giocare a... Disagio. Vediamo cosa peschiamo. Chenners Edit. Rimozione inutile in questo mazzo. I nabbi non lo sanno e la giocano lo stesso. Loll. Anche io Palaz Sentinel. Ah. Interessante. Possiamo scartare benissimo una squadrono look alla pianura. Giochiamo a montagna. Una volta giocata a montagna facciamo la nostra Palaz Sentinel. E... La partita si fa interessante. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Ah. La cosa triste è che lui può farmi... Uh. Chenners Edit il prossimo turno. E si tap out. E mi ammazza la mia Palaz Sentinel. La cosa interessante è che abbiamo topdeccato... Cioè abbiamo pescato la Bullshock Morningstar. Che ci permette di rendere gli... Ma com'è che hanno sempre le rimozioni subottimali al momento giusto? Praticamente... L'unica maniera in cui può vincere il mazzo incastrando le carte in situazioni improbabili lo fa. Oltretutto soltanto creature con costituzione uno in mano. Ovviamente... Pesco. Ovviamente lui riesce a rimanere open di uno. Una cosa illogica. O facciamo looting o facciamo Bullshock. Preferisco fare Bullshock. Non so... Non ho tante carte in mano che vorrei scartare nonostante possano morire tutte quante per Pestilence. Allora, un piano che potrebbe essere benissimo attuabile è quello di andare a giocare almeno un pezzo a turno in modo da cercare di fargli... di far morire da solo l'avversario per il danno che si farebbe pingando su un Pestilence. Non penso che sia un piano attuabilissimo. Perchè... Lui riesce... E questo mazzo è fatto per guadagnare vite. E quindi... Ah, bello. Quello che mi manca di questa lista sono le guardie del patto del G2D side. Bello schifo. Scartiamo lo schifo. A questo punto tiriamo già flashback di looting. È inutile. Abbiamo due squadre nocche che sono morti in mano. Ah. Firebolt ci piace. Lo tireremo mai questo battle, Screech? Sì, lo tireremo. Quindi scartiamo questi due e passiamo. Puntiamo a chiudere di botte in faccia con i Firebolt, probabilmente. Sarà una partita strana. Tanto lui continuò a picchiare con la sua guardia. Infiniti mana. Ancora le Boros che è Rison. Pesante. Tanto rubiamo il Monarch. Non penso che Vratterà per infinito perché ha la cosa. Quindi... Facciamo questo battle, Screech. Così o lo costringiamo a Vrattare subito. Non so se ha senso sinceramente fare il flashback. No, non ha senso perché tanto le pedine se le mangia. Quindi... Riprendiamo cosa a caso e... Passiamo... Peschiamo un altro Firebolt. Siamo contenti. Adesso lui Vrattà per uno. Si torna a otto. Nel suo turno fa flashback di Edict. Wow. LOL. Come sfruttare male il mana. In realtà ci sta perché... Se no... Si tappa out nel suo. O quasi. Insomma c'è due, quattro, sei, nove mana. Dai! Un altro Firebolt e facciamo otto danni giusti. Adesso vedi che... Comincia a giocare... Lieve nel Riffwatcher in Croce. Oh mio Dio! Quanto cazzo di mana ho? Due, quattro, sei, nove, dieci. Firebolt, you! Non mi dire che ti ristrenza. Adesso sto animale qui ha strengths in mano probabilmente. E ci perdiamo. Gioco strengths. Ah. Beccati sto Firebolt. Gioco strengths. Perché non l'hai giocata prima? Perché sono un cane. Aspetta che penso come pagare il mana. Gu. Prendo i danni. Eh, non riusciamo però a chiuderla adesso. Quindi, boh, facciamo le cose un po' a caso. Facciamo gattino. Peccato, mancava un mana. Ho sbagliato a giocare la terra. Toh. Equipaggio. Pingo. Pingo. LOL. Che animale. Che animale. Toh, beccati sto Firebolt. Adesso faccio strengths. Gu. Ovviamente non posso ucciderlo di botti perché il terzo Firebolt che gioco me l'ha esiliato di Castigate. Ma vaffanculo. Ho pescato la terza fontana. Beh, la partita è praticamente persa. Non ha senso giocare. Ah, lui tra l'altro si identica anche di picchiare. Molto bene. Io gioco Firebolt dal cimitero. Mando a 4. Ciclo. Bello e questo è Flameslash. Io ho visto due palassenti nel su 2. Quindi non posso più tornare Monarcha senza picchiare. Questo qua sta scavando come un disperato per cercarsi la strength. Ah no, ce l'aveva il cimitero. Quando l'hai scattata? Bene. Abbiamo perso. Però non vogliamo dare la soddisfazione all'avversario. Cane! Perché questo gioco qua è un cane. Vaffanculo. Dai, concediamo. Una volta che ha risolto un event di Suoce dal tornato a 10 non ha più senso provare a vincerla. Allora. Non penso che sia un bellissimo matchup. Troppe mass removal. E sono tutte mass removal. E il tornato alle quali non si riesce a giocare. Oltre tutto l'avversario è un cane. Quindi gioca tutte le carte da cane in maniera da cane. Abbiamo le Flaring Pain che sono belli. Mettiamo parapetto. Mettiamo parapetto. E Flaring Pain. Togliamo Firebolt. Firebolt e Firebolt. Pensiamo un attimo... Allora, le strengths sono così utili, non più di tanto. Ce ne possiamo ottenerne anche solo due. Le otteniamo semplicemente per cercare di salvare i pezzi da Mass Removal. Anche se in realtà possono salvarci solo una volta in situazioni molto marginali. Il matchup è, secondo me, più a sfavore rispetto a Mono Nero. Perché questo mazzo si basa molto di più sulle Mass Removal. E tutte le Mass Removal nere ovviamente passano per... Sono praticamente Pestilence e Creep Razz. Quindi va da sé che l'unica è giocare a tono con carte come parapetto. O Lumetrade Field. E inizierò per primo. Ma non dà schifo, però c'è il parapetto e lo teniamo. Tanto sappiamo che gli avversari sculeranno con... Oh, no. Il fatto è che di solito i giocatori di Magic Online o vedono mani imbarazzanti da quanto sono per loro favorevoli oppure muoiono perché si inchiodano da soli. Quindi non c'è una via di mezzo. Michio entra. Poros Kerrison pure. Riprendiamo la Tupland. Non riprendiamo la Bounsend, per carità. Adesso cosa... Trebbe in Ispector. Bravo. Wow, la skill. Oh mio Dio. Manca solo che mi abbia messo gli Islandi. Facciamo la Scrag. Parapet. Passiamo. Potrei anche picchiare. Però mi è differente. Tanto ho un 1-2. Anche lui ha un 1-2. Non ci sono tanti altri attaccanti. Quindi... Boh, il prossimo turno probabilmente farò... Gatto più Spada. Potrei fare anche il Seeker. Però il Seeker ha il lato negativo che me lo può rimuovere subito. Ah, anche è vero che non è detto che abbia subito la rimozione. Quindi, in realtà... Ah, ah, ah. Quel Battle Screech non ci dispiace. Facciamo... Anche per il fatto di aver pescato il Battle Screech, penso che la cosa migliore da fare sia Seeker più Gatto. E... Ci prepariamo agli Islandi dell'avversario. Adesso, ovviamente... Terra stappata, Pestilence. Ah, no. Farà Creep Rats, probabilmente. O rimozione sul Seeker. Facilissimo. Adesso non conviene... Non conviene... Comunque parare nel caso Picchiasse. Per il semplice fatto che... Potrebbe... Eccolo là. La Doom Blade c'è sempre. Giochiamo Terra. Mazza che ammazza. Mazza che ammazza. E passiamo... I mici che diventano dei... Tra l'altro... Sì, avrei potuto comunque picchiare. Vabbè, pazienza. Adesso ovviamente farà una guardia del cazzo delle gilde e quindi mandiamo tutto a puttane. Sarebbe divertente se adesso avesse soltanto i ditti in mano. L'unica da fare per lui adesso è praticamente... Ho, tra l'altro, messo male col mana perché ha solo due fonti nere. Quindi... Adesso equipaggiamo i gatti e diventano praticamente immortali. Ui... Micio qui. Micio lì. E si piega. Ma... Madonna se li piego questi gatti. Andate gatti! Madonna... Sono enormi questi gatti. Adesso devo fare uno screenshot e spammarlo in giro. Andate, miei fedeli gattoni! Che bello che anche se... Oh, che bello. La cosa divertente di questo mazzo qua, cioè di Pestilence, la cosa divertente per il mio punto di vista di giocatore che sta giocando contro Pestilence, è che fin tanto che non ha altri mana neri, siamo... Oh, è bravo, hai fatto Pestilence, però ti manca appunto il mana nero. E io ho una strengza in mano. Hmm, Seeker è simpatico. I gatti che picchiano come dei dannati. Lol. Lol. Fine, Seeker! Ah, ti prego, frattami tutto. Oh, hai visto una Gainland? Che forte, parapetto. Oh, io adesso spero che abbia una strengza. Ci spero veramente. Così tiro un Flaring Pain grosso come una cap... che mi fa beccare 9 danni. Figa. Ah, abbiamo vinto. Forse. Tanto lui... Mi danni Silly Pain, ne penso. O farà strengza. In realtà potremmo fare subito Palas Sentinel e non tirare questo Flaring Pain. Però preferisco tenere la strengza per il turno dopo, per proteggermi le bestie da Pestilence. Tanto lui... Allora, il fatto è che se noi aspettiamo che lui faccia... cerchi di frattare con Pestilence il prossimo turno, lo costringiamo a tapparsi dei mana, e... Hai fatto Dumbly? E quindi praticamente non lo... lo portiamo a giocare sulla difensiva, e non è detto che... che... Ah, vai, torna amicio. Ah, adesso ho un problema. Non posso... Avrei potuto fare Palas Sentinel, è vero? Però... Cosa cazzo stai per tirare adesso? Tragic Sleep. Che noioso. E praticamente così non dovrebbe giocare creature o altre cagate, se mi ammazza tutte le bestie, Pestilence se ne va, se mi ammazza tutte le bestie, io al prossimo turno posso fare Palas Sentinel. Va bene. Vai, Prismatic Strength! Tra l'altro il Seeker si salva comunque perché c'è Prowess. Quindi ci va più che bene. Gatto muore. Pazienza. No, protezione dal nero. In realtà avrei potuto dare protezione da un altro colore in modo da fargli prendere un danno in più a lui. Vediamo cosa mi gioca adesso. Palas Sentinel. Ah, uccello di merda. Bravo, hai fatto uccello di merda. Che forte l'Evulshock in questo matchup. Tra l'altro probabilmente non dovevo fare... Dovevo equipaggiare l'Evulshock sul gatto in questo caso. Ah no, ma comunque il gatto diventa un 3-4. Vero? Perché c'è il parapetto. Madò, che forte questa combinazione di carte. Un po' un peccato che sono inchiodato a 3 terre. Però... Ah no, aspetta. Non gli andiamo a che non faccia cose strane. Lui non può neanche trattare con Pestilence intanto che non vede il... Il quarto mana nero. Madò. Chi è che fa Lifegain adesso, eh? Bisogna comunque dire che doppio Bullshock Morningstar contro i matchup a base a Removall e che si basano sulla Costituzione sono veramente enormi. Cosa fai? Guardia? Palas Sentinel? Allora, questo giocatore è stupido perché gioca a Palas Sentinel contro i mazzi agro. Che cane. Adesso lui moriranno le sue bestie al prossimo turno. No, cosa fai? Ancora rimozio. Ah, basta Castigate! Ma come cazzo hai salato? Cosa hai tolto? Cosa hai messo dentro? Mi ha scartato Palas Sentinel? Che disagio. Becca. In realtà sarebbe stato Mega Mazzaria Rift Watcher perché adesso può decidere di non parare. e... Invece paro. Vabbè. Avremmo potuto fare Battle Screech anche prima di picchiare. Ho sbagliato qua io. Ma vaffanculo! 3 mana neri. Sì, dobbiamo fare Battle Screech. Tanto abbiamo Parapetto che ci salva per quello. E si passa... Ah, giustamente Top Deck al nero. Vabbè, ha due carte in mano. Però il problema è che è Monarca quindi lui dal nulla può vincere adesso. Gli basta fare un paio di rimozioni paranti a caso. La porta a casa, no? Cioè io giocavo attorno a Pestilence adesso con il flashback di Strength soltanto perché ho Parapetto e lui aveva solo 3 mana neri. Ovviamente così tutto il piano va proprio a puttane e quindi dobbiamo sperare che sia talmente cane da non sapere sì, ma dai, imbarazzante! Questi giocatori vincono semplicemente perché riescono a incastrare le carte bene. Non c'è altro da dire. Ma stai scherzando? E ci pensi a far... Sai cosa ho in mano? E ci pensi? Ma quanto cazzo sei ridicolo? Ah, tra l'altro bisogna pure dire che... Oh! Eh! Beh, beh, beh. Oh, quanti danni abbiamo sul board? Sono tre... Più altri... Due, quattro, cinque, sei, sette, cinque, no. In realtà non sono sette danni perché comunque... Dai! Fammi sta cazzo di vratta! Vratto cu! Pingo uno... Pingo uno... Hai pingato uno... Pingo un altro... In risposta... Farò questa strength... Lui farà l'altra pingata... E potremmo pensare di fare parapetto... In realtà... Cosa cazzo stai tirando? Strength... Motivo per cui... Flaring Pain e Strength giocano male nello stesso mazzo, no? Vabbè, in realtà comunque riusciamo a giocare attorno a... Alla strength dell'avversario perché comunque Flaring Pain possiamo tirare in qualsiasi momento. Quindi... Lui ha fatto una cazzata sinceramente a meno che non si metta a pingare adesso di... Di cosa. Ma vedi, scelto bianco. Mi fa risolvere la mia? No. Faccio besti, penso. E... Vabbè... Questa risolve... Aspetta, questo stronzo quanti danni ha sopra? Due. Saliamo rosso. Così lui si becca comunque un danno in più. Lui ha i quattro mana. Eh... Un po' è un problema. Perché se... Dovrei... O equipaggio la Bullshock o faccio parapetto. Perché comunque il danno a questo turno probabilmente non glielo faccio. Però lui ha una carta in mano. Quindi comunque... La cosa migliore è fare Flaring Pain. E rubargli il Monarca. Così non può più uscirne. Tanto se dovesse decidere di ammazzarmi la bestia... Pestilence se ne va. Abbiamo pescato il Monarca. No, ma la cosa importante era rubargli il Monarca in questo caso. Perché adesso o fa Palacentinel o perde. In realtà giocare Palacentinel, se sai che il tuo avversario gioca Palacentinel è sensato. Nella sua situazione contro un mazzo aggro non aveva senso. Cioè ha fatto completamente una cappellata. Infatti ha rubato il Monarca e ho vinto. È andata così praticamente. Potremmo pensare di giocare Fade di Macabre per Strength. In realtà ritengo che i Flaring Pain siano più che sufficienti. Oltretutto Fade di Pain lo posso scartare e giocare di Flashback. Quindi più che sufficiente come Sidine sinceramente. Comunque abbiamo visto che Prismatic Strength, uno dei motivi per non giocarla, è anche perché gioca un po' male con Fade di Pain. In realtà adesso abbiamo visto che la Prismatic Strength, per quello che ci servirà, ci è servita. Perché come avete visto abbiamo potuto far risolvere la Strength dell'avversario. Decidere di far risolvere la nostra. E' indifferente salvare la Bestia o no? Perché tanto comunque ha preso solo tre danni. Lui l'ha giocata male. Non è una bella mano. No, è brutta. Molto brutta. Però... Allora, la mano è molto brutta. Possiamo pensare di tenerla perché c'è il doppio looting. Quella è l'unica. Anche perché non voglio andare a muligare. Considerato che lui rompe le scatole... Fa iniziare me? Va bene. Non penso che abbia ben capito come... No, allora. Il fatto è che lui pensa di star giocando un matchup d'attrito. Così non è. Perché? Io non sto giocando aggro. Scusatemi. Non sto giocando midrange. Sto giocando aggro. Il mio gameplay è quello di giocare un mazzo aggro. Anche se gioco due o tre pala Sentinel. Le faccio semplicemente perché gioco dalle tre alle quattro Prismatic Strengths. E mi conviene giocare questa attrezza qua quando posso far prevenire il danno che mi infligerebbe l'avversario in qualche modo. Allora. Boh. Fa schifo questa cosa. Facciamo una Fertiless Looting. Ah. Bello schifo. Non scarteremo le terre. Scartiamo un looting. Scartiamo un Flameslash. Giochiamo terra. E passiamo. Scarteremo il pro bianco ovviamente. Il prossimo turno faremo un Seeker of the Way. Bello quando scarti... Quando fai looting all'avversario tipo Yook e Bog. Pianura. Turno mio. Bello schifo. In realtà ci va discretamente considerato il fatto che se lui fa una partenza lenta e ci ha fatto iniziare per primo, se non fa cose strane... LOL. Tre paludi. Quindi niente castigate. Ah. Palassanti nel GGVP sinceramente. Tanto ti picchio per due perché è quello che mi compete meglio. Ti appoggio questo attrezzo. E vediamo se la partita termina. Ti giuro che dal turno dopo ti appoggio un mazzafrusto, quello che è, e comincio a piegare. Wow, hai aggiunto quattro mana, sei forte amico. Giustamente. Cosa potrà mai giocare? Guardia del pazzo delle gilde. Ovviamente io floddo come un disperato. Equipaggeremo la... Allora. Equipaggiamo la palassenti nel l'allseeker. Considerato che non... Non dovrebbe giocare i creep rats. Almeno non li ha giocati finora. Possiamo permetterci di picchiare così. Gli passeranno almeno tre danni. Fatti. Gli passano tre danni. Tanto io so che lui mi ruberà il monarca in qualche modo. Adesso appoggerà Pestines e gli dirò... Ah! E io come ci gioco attorno? Eh eh. No, la cosa interessante è che... Possiamo un po'... Menar... Ah beh, ci mancava il secondo parante, sinceramente. Fintanto che comunque è inchiodato a mana... Non ci va male. Cioè... Adesso lui spacca... A meno che non faccia un secondo... Una seconda creatura gli ri... Anche se... Dovesse decidere... LOL! Non ha picchiato? Sto pescando solo lo schifo. Avrei dovuto speciare e me ne sono dimenticato. Stupido io. Però... Non ha senso... Vedere tutte queste... Carte morte. Ah già. Ha senso perché mi ha mangiato doppio looting lo stronzo. Guardate che roba. Quella buiukabog fatta... A contropelo. Mi ha... Letteralmente segato le gambe. Mmm. Io... Io comunque penso di essere costretto a giocare il secondo Seeker. E... A questo punto... Sposto la mazza sul Seeker. E passo. E vediamo cosa succede. Finalmente una carta utile. Avrei potuto giocare... Non ho giocato il Sterzo Seeker perché... Voglio un po' giocare attorno a eventuali vrat. Anche se in realtà... Anche se in realtà... Perché... Non riesco a... Adesso cosa mi fa i palasenti? Ah... Uccello di merda. Hai fatto l'uccello di merda. Quindi a me comunque conviene picchiarti perché... So che... Vediamo se picchia col guardiano. Non penso che gli convenga. È stupido forte. Mi picchia quando non deve praticamente. Andiamo a prenderci una terra. Prenderemo una pianura. Giusto perché siamo pieni di montagne in campo. Tanto quello che mi interessa fare nel prossimo turno è... Tirare looting. Impiliamo le abilità dei... Dei pelati amati. Sono dei 3-3. Scartare pianura. Scartare pianura. Non mi piace... L'idea di lasciargli... Il rifuocere in campo. Perché dopo... Comincia a riprenderselo in mano. A fare vite. E menate varie. Quindi glielo ammazziamo direttamente. O meglio. Glielo mangiamo direttamente col giorni. E lo questiamo come un fabbro. Bravo. Guadagnati le tue vite. Tanto comunque adesso ti arrivano una vagonata di danni. E questi danni te li senti. Paro il 6-6. Adesso... Probabilmente... Gli arriverà un... Tragic Slip a fine turno. Cerchiamo di giocare attorno a... Editti e stronzate varie. E facciamo gatto. Tanto... Sappiamo che... Almeno una o due rimozioni potrebbero arrivare il prossimo turno. O meglio. Tra fine turno e il prossimo turno. Guarda. Palese. Questo qua ha copiato la lista di Don Zauker. Però non sa giocare. E quindi perde. Doppio Tragic Slip. E mi ammazza il sick. Ha Pestilence in mano. Adesso fa Pestilence. Bratto 2. Divento monarca. Che dici? È un GG? E io ti dico no. Sei uno stronzo forte. Oh, la skill. Bratto per due. Wow! Bella questa tormenting voice. Peccato che non potremmo tirarla. Palasentine. Equipaggio. Wow! Ah, rally. Editto. Adesso ovviamente farai ditto. Cioè... Cosa ci si può aspettare da un giocatore cane? Dai. No. Cosa sta tirando? Io sicuramente sto tirando qualcosa che però non piace ai molti e renderebbe il video soggetto a a Corsky Fisher. Perché? Beh, ti riprenderai l'acciclabile. Cosa? Cosa? Razza di bastardo. Tormenting voice. Scarto. Bello schifo. Bello schifo. Luttiamo. Adesso arrivi. Va bene. Picchio. Paro. Passo. Beh, comunque in realtà l'idea di fare core per riprendere guardiano era sensata. Adesso picchia con tutto perché ha una stransi, ma... No, ma è imbarazzante che un match-up del genere che fondamentalmente non dovrebbe essere vinto dal Monarca ma da Pestilence viene vinto anche dal Monarca. E... No. Viene vinto da Guardia del Pattore delle Gilde. Dai. C'è altro da dire. Facciamo parapetto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Fantastico. Journey Già. Sono un coglione. Lui pot... No. Lui è un... Allora, o è lui un coglione oppure ha strength in mano. Perché con Journey to Nuwari in pila lui avrebbe benissimo potuto spaccare per tre e in quel modo mi mangiavo io la mia creatura e... Non potevo rubargli il Monarca. È lui un coglione. È lui che è un coglione. Ma dai. Figata. Che cane. Che cane. Si è fatto rubare il Monarca. Ma è imbarazzante questa cosa. È imbarazzante. Cioè... Vabbè. Perdevi... Che forte. Clap, clap, clap. Avrei potuto rianimare il gatto. Non ci avevo pensato. Cambiava niente però. Yeah. Cerchiamo di non morire. Rianimo il micio. Faccio uno screech. Adesso dovrebbe spaccare per dire una risposta. Beh no. In realtà ci sta. Non spaccarla. Montagna. Sinceramente cambia qualcosa? No. Andiamo di... Bullshock Money sta prato per due. Va bene. Partita di merda. Tanto la partita penso che sia persa. Gli facciamo perdere tempo e cerchiamo di non... Di non morire. Una cosa divertente su Magic Online è vincere per tempo contro questi qua che giocano in maniera discutibile. Faffanculo. Eh niente. L'abbiamo perso. Però almeno proviamo a fargli ammazzare. Facciamogli perdere tempo dai. La cosa divertente è che il bastardo infame non mi dire... Ah già. Quell'altro è ditto. Questi giocatori non sanno giocare senza gli editti. Vabbè ci mancava la seconda Palace Sentinel. In realtà per lui ha fatto bene a giocare Palace Sentinel perché così chiudeva la race ed essendo soltanto due minuti di tempo rischiava di non vincere. in realtà con lui a 13 e io a 10 adesso cominciava a pingare un danno a turno e se la portava a casa la partita. Quello che gli poteva scacciare invece era un eventuale prismatic strength da parte mia. Cioè questo qui ha vinto semplicemente perché il matchup è incredibilmente a suo favore. Io infatti è incredibile che sia riuscito a vincere un game su tre. Anche se ovviamente fa schifo perdere da certi